Grazie mille, ciao ragazzi! Laura, sei limpido! E' come sei bella! Ma ma, ragazzi, scusate, io gli ho dato già un sacco di baci dietro le quinte, ma gli voglio dare anche qui. Sono la tua cavaliere, oggi sei il mio cavaliere e io sono la tua damigena. Guarda loro! Lascerò che sia il tempo a decidere chi sei per me. Lascerò all'istinto e dal buio tutto tornerà liquido. Cioè, tutto è limpido per te. Oh, mamma, grazie! Carati pubblico! Ragazzi, scusate, a parte che siete stati fantastici, io so che Laura, oggi pomeriggio, quando ho fatto le prove, ha fatto con voi una prova di intonazione. Sì? Allora, noi ci conosciamo da un sacco di anni, però tu a me la prova di intonazione non me l'hai mai fatta. Vero? Ma che mai questa cosa? Ah, come mai? Se vuoi te la faccio cadere? La notica di musica! Prego, signorina! No, soprattutto perché io ho pensato, Laura, che nei tuoi prossimi tour, io potrei venire a farti, che ne so, da un corista, oppure... Ma come su parte, su fare! Perché ne dite? Ma scusami, però di essere preparata, cioè devi avere... Allora, dunque, vabbè, tutte le canzoni di Laura sono stupende, ce n'è una che è la preferita di mia, di mia figlia, e tu lo sai, perché ti ho fatto vedere anche il video, che è invece no. Bene, allora, chiamola Marcosi, che ti conto invece no. Attenzione, eh, perché tra poco potrai sparire dal palco e non vedermi mai più. Ma no, butati, dai, la musica è di tutti. Oh, ma non li ho mai cantate, è la prima volta!